Sindaco Antonio Luciani, nonostante le difficoltà del momento, tornano gli eventi estivi a Francavilla. Che tipo di estate sarà sotto questo punto di vista? Sarà un'estate molto diversa da quelle precedenti, perché abbiamo dovuto ovviamente ripensare tutto il nostro cartellone estivo. Questa sarebbe stata, senza la pandemia, sarà la mia ultima estate da sindaco. Avevo programmato, diciamo, una chiusura col botto. Chiaramente la pandemia ci ha rovinato i piani, però questo non significa che non sarà una bellissima estate. Francavilla ha ripensato se stessa, quindi i classici concerti di piazza, che non si possono ovviamente fare per legge, verranno sostituiti da eventi enogastronomici, ma anche da tanto altro. Ci sono anche i nomi importanti, ci sono sorprese. E poi è un'estate che si adatterà mano a mano, col passare dei giorni, anche in virtù di quelli che sono gli sviluppi pandemici. Quindi siamo pronti a cambiare anche in corsa il tiro. I nostri utenti, i nostri turisti, i nostri visitatori dovranno stare attenti e seguirci in ogni istante, perché noi siamo pronti ad adattare a seconda di ciò che succede, insomma. Si può dire in qualche modo che questa estate viene saltata l'agricoltura francavillese? Viene saltata intanto, viene saltato il distanziamento sociale. Tutti gli eventi verranno svolti in sicurezza, con iniziative che sono controllate dal punto di vista sanitario e quindi i turisti potranno stare tranquilli, trovare a Francavilla una buona qualità della vita, prodotti a chilometro zero, i prodotti della nostra terra che sono favolosi, come voi tutti sapete, ma troveranno anche un mare particolarmente pulito, perché l'Arta ce lo conferma. Ormai siamo in trend positivo da anni, troveranno delle spiagge ordinate con il distanziamento sociale. Quindi troveranno, come ho detto, una buona qualità della vita, un'estate serena da vivere senza rischi per la propria salute. Proprio a questo proposito ci sarà un nuovo dispositivo, il SafeGate. Che cosa serve? Il SafeGate è un tunnel, un tunnel che misura la temperatura delle persone che accedono alle aree, ad esempio per quei concerti che faremo con posti numerati e distanziati, misura la temperatura, dopodiché si passa attraverso questo tunnel dove, con dei prodotti assolutamente a base naturale, si viene sanificati, con uno spruzzo di questo che sembra un vapore profumato, diciamo si viene sanificati e quindi si abbattono i virus, i batteri e tutto ciò che possiamo avere addosso. E quindi anche questo in virtù della sicurezza. Devo ringraziare la ditta che li ha prodotti, li ha pensati, li ha prodotti e ce li ha offerti. Francavilla sarà una delle prime città in Italia a usare questo metodo che è totalmente innovativo. Il titolare della ditta, Davide, va ringraziato per questo. L'ultima davvero, come diceva un po' Canzi, questa è la sua ultima esteda sindaco, eventi sono programmati in maniera limitata, però potrà c'è un bilancio di questi dieci anni per quanto riguarda gli eventi? Beh, dieci anni fa, intanto, questa intervista non ci sarebbe stata. Non ci sarebbe stata perché Francavilla, la ricordo molto bene come cittadino, è una città che era caduta in depressione, è una città la cui comunità era sopita. Oggi è una Francavilla assolutamente più moderna, più innovativa, aperta, aperta al turismo, che favorisce l'agricoltura e il piccolo commercio. Quindi è una città che si sta guardando al futuro e che guarda al domani. Questo significa aver tracciato una linea, un percorso assolutamente diverso da quello che c'era in precedenza e quindi io mi auguro che il futuro sindaco sappia continuare questa strada, fare ancora meglio di me perché la nostra città merita, perché come dico sempre, questo è il posto più bello del mondo.